un'altra volta è la seconda volta che lo facciamo incredibile due volte il tunnel pazzesco non mi ricordo più un cavolo come si chiama qua la galleria Monte Carlo Star a casa tua Charlo un'altra volta purtroppo abbiamo sbagliato strada quindi Yacht Club di Monaco una roba giusto per non riesco a capire come cazzo fanno a fare la chicana da dove passano dentro qui non c'è il passaggio che si vede nella Formula 1 non so come cazzo fanno qui vedi che ci sono tutti i cosi non capisco non lo so via di nuovo di nuovo gli yacht siamo passati di nuovo perché alla fine anche loro hanno un tot di giri da fare no? adesso non so perché vado giù perché? perché dobbiamo rifarlo anche giù eh ma ah ok si inizia siamo qui a rotazione no ma così ma così basta ma così è finita però ok